Un'emergenza senza fine, quella dei profughi siriani in Libano. Sono oltre un milione in un paese che prima di quest'ondata contava 4 milioni e mezzo di abitanti. Secondo l'ultimo rapporto di Human Rights Watch, oltre 250.000 bambini non hanno accesso all'istruzione. Solo il 3% nell'ultimo anno ha frequentato una scuola pubblica libanese. Nella valle della Bekaa, decine di campi profughi ospitano donne, anziani e ragazzini scappati dagli orrori della guerra, dal regime, del presidente siriano Assad o dalle mani dell'ISIL. Ora vivono ammassati in condizioni di estrema povertà e spesso sono vittime di intimidazioni. Non mi piace la scuola, dice questo bambino siriano. Non ci insegnano nulla, ci picchiano anche. Ho smesso di andarci sette mesi fa. Voglio lavorare, guadagnare i soldi per avere una casa per la mia famiglia. Vogliamo poter mangiare. Voglio poi comprarmi anche una moto e giocare a calcio. Secondo la relazione dell'ONG, le misure prese dal governo libanese per far fronte al problema spesso vengono ignorate. Le scuole pubbliche poi rifiutano i bimbi disabili siriani per mancanza di risorse, dicono. Numerose famiglie, inoltre avendo il permesso di soggiorno scaduto, non possono mandare i figli a scuola per paura di essere arrestate. Chiediamo al governo libanese di rivedere subito le norme sul permesso di soggiorno, chiede un rappresentante di Human Rights Watch. Mi riferisco alla quota annuale che i siriani devono versare per mantenere lo status giuridico. Dal 2011 ad oggi il conflitto in Siria ha fatto oltre 280.000 morti, costringendo milioni di persone a scappare dalla loro terra. Ecco perché l'accesso all'istruzione è fondamentale per aiutare a dare un futuro a questa nuova generazione, ma anche per superare i segni di tanta violenza.